Negli ultimi anni il vasto territorio di Ragusa è stato consumato e inghiottito in modo abnorme, da colate di cemento che hanno portato alla costruzione di migliaia di abitazioni nel verde agricolo, provocando un gigantesco spostamento della città dal centro storico verso un'unica grande periferia, con costi altissimi per la città stessa in termini di qualità della vita e di oneri per i servizi. Ora una sentenza del TAR dice che tutto ciò non poteva essere fatto. Il dispositivo è emesso il 19 febbraio scorso, non ammette dubbi. Solo l'imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto iscritto alla gestione separata dell'Inps può costruire in zona agricola. Pertanto nel rilasciare il permesso di costruire il Comune deve verificare il possesso di tali requisiti. La sentenza approva l'operato della Regione che aveva annullato tre anni fa le concessioni e edilizie per l'edificazione di sei villette in zona agricola lungo la strada provinciale permanente di Ragusa perché rappresentanti una lottizzazione abusiva. Nel procedimento scaturito da un esposto di lega ambiente, il Tribunale amministrativo nel dare ragione alla Regione e torto al Comune stabilisce che secondo l'articolo 48, norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale di Ragusa, l'edificazione in zona agricola è strettamente collegata all'utilizzo del terreno e alle attività agricole e tale circostanza è sufficiente a precludere qualsiasi possibilità di edificazione per la realizzazione di insediamenti abitativi residenziali. In effetti quanto disposto dal TAR sembra la normale interpretazione di buonsenso di norme vigenti dal contenuto inequivoco. Eppure interpretazioni diverse hanno consentito negli anni un'aggressione senza precedenti al territorio e al verde agricolo, con effetti devastanti sulla città intera e sul suo equilibrio urbano e sociale.